Il treno regionale, 22819, di Trenitalia, proveniente da Genova Voltri, è diretto a Recco, delle ore 7.37, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale, 22823, di Trenitalia, proveniente da Savona, è diretto a Recco, delle ore 8.35, e in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Grazie a tutti!